Abbiamo visto che le domande sono qualcosa di straordinario, positivo per le nostre presentazioni. Prima però di proseguire e vedere come gestirle, come rispondere alle domande, è importante fermarsi un attimo a parlare della paura delle domande, del timore delle domande. Durante i miei seminari Successful Presentation, se chiedo ai partecipanti chi ha paura delle domande, qualche mano si alza sempre fra il pubblico ed è abbastanza normale. Vediamo allora quali sono i motivi dietro a questo timore e come gestirli, come superarli. Uno dei primi e più comuni è il fatto di non essere preparati. In questo caso la soluzione è abbastanza semplice, prepararsi. Quando stiamo preparando la nostra presentazione studiamo chi è l'audience, prepariamo il contenuto, il soggetto, quello che andremo a dire e allo stesso modo dovremmo preparare le domande.